Ciao a tutti, questo è Tessila News e quest'oggi parleremo di Lumina 9. Non tiriamocela troppo e cerchiamo di analizzare fin da subito questo meraviglioso e preziosissimo filato. Parliamo di un filato ritorto da ben nove fili, come insomma d'altronde è deducibile, molto sottile, perfetto, adatto per qualsiasi creazione voi abbiate in mente in merito ai bijoux. Analizziamo però un attimo quella che è la composizione del filato. Vale a dire 100% poliestere PET. Parliamo di una materia sintetica appartenente alla famiglia dei poliesteri, riciclabile al 100%, non perde le sue proprietà fondamentali durante il processo di recupero e la si può così trasformare ripetutamente per la realizzazione di prodotti pregiati. E adesso invece vediamo come è sottile questo filato e soprattutto come vi arriverà direttamente a casa. Vi arriverà esattamente così in pratici roll. Nel caso del Lumina 9 parliamo di 35 metri per 11 grammi e i fidi di cui si compone il Lumina 9 sono ovviamente 9, del diametro di circa 0,6 mm per il quale consigliamo all'uncinetto 1,25 oppure 1,5. Soffermiamoci perché davvero è un filato che merita, il Lumina 9. Ci avete chiesto tantissime volte un filato che potesse essere resistente, luminoso, liscio, ecosostenibile e con un rapporto qualità prezzo unico. Beh, Tessilan è riuscita ad accontentarvi proprio con questo filato che come sapete è presente anche con 6 fili ma anche con 12 fili. I colori sono davvero tantissimi. A proposito, guardiamoli un attimo. A proposito, guardiamolo un attimo. A proposito, guardiamolo un attimo. Luminosità affascinante, texture ben compatta, il tutto per dare un tocco di classe alle vostre creazioni. A proposito di creazioni, giusto qualche spunto. A proposito, anello uncinetto primula della Fata Tutto Fare, orecchino uncinetto Demetra, sempre della Fata Tutto Fare, o ancora Parour ad uncinetto, questa volta di Mamo Emanuele Sposito Crochet Bijou. Questo Lumina 9 potrete quindi utilizzarlo con perline, cristalli, pietre di ogni genere, per gli orecchini, per anelli, per bijou, per insomma impreziosire, dare un tocco di luminosità. E perché no, creare anche magari un bel mix per dare maggiore movimento ai vostri bijou, potreste anche utilizzare tutti e tre i Lumina, quindi 6, 9, 12. D'altronde i colori non mancano e gli accessori nemmeno. Lumina 9, un vero e proprio rivoluzionario nel mercato dei filati. Se vi è piaciuto questo video, cliccate un bel pollice in su e commentate per dirci come vorreste utilizzarlo. Iscrivetevi sul nostro canale YouTube ed attivate la campanella, così da essere costantemente aggiornati su tutti i nostri video. Noi ci vediamo al prossimo Tessila News. Chissà di cosa parleremo. Ciao! Ciao!